E ragazzi stasera vi dico la verità, da Laziale è la prima volta che quasi quasi se la Roma magari avesse perso 1-0, un po' meno, non mi sarebbe dispiaciuto, ma non per la Roma, ma per il Barcellona e un po' anche per il Real Madrid, che se è spagnola regà, cioè è 20 anni da quando sono nato, tra un po' che da quando seguo il calcio sicuro, da 10 anni, 12 che seguo il calcio, Spagna, Spagna in Europa League, Spagna, Spagna, e regà. Ma poi la cosa bella è che la Lazio, che io la rappresento qua su YouTube, rischia di essere l'unica squadra ancora in Europa, speriamo regà, perché domani ci sarà poi il video caldissimo, e ragazzi voglio tutti, tutti i tifosi laziali, condividete poi il mio canale e tutto, perché domani io voglio spaccare tutto nel video post di domani. Comunque parliamo di stasera, la Roma la sua partita l'ha fatta, ma non ha mai tirato in porta, non ha mai pensierito Ter Stegen, e poi soprattutto, regà poco convinta, secondo me fosse stato un pelo più convinta, qualcosì più l'avrebbe fatto, però regà purtroppo in un attimo 3 per e 2 autogol, è clamorosi regà, perché De Rossi sinceramente era evitabile, scrivete uno nei commenti la vostra opinione, è quello di Manolas, regà un po' scomposto diciamolo, e poi vabbè il 3 a 0, che adesso la partita deve ancora finire, comunque. Devo salutare Valerio Saggia Civitelli, ciao, Domenico Cozzolino, ciao, Giovanni Giovanni, ciao, e saluto Samuele 03, hai capito, me l'hai chiesto poco fa, ciao, e chiedo scusa se magari mi sono perso dal commento di salutarmi, riscrivetemle, io vi risaluterò. Signori, mi raccomando, domani con il video, e ragazzi, forza Italia, forza Italia, perché non possiamo farci umiliare così, ecco qua vicino al 4 a 0, dai Italia, peccato per la Roma, ragazzi, da Laziale mi ha fatto un po' pena stasera, dai a Lazio domani.